22 ottobre 2022, una giornata per capire come sta il mobile giornalismo. Primo incontro, buongiorno ad Alex Piero, si presenti? Buongiorno, salve, buongiorno, sono un giornalista, sono da poco anche Presidente di Agi, l'associazione nazionale giornalisti e critici musicali e siamo qui con l'amico Francesco a Roma a vedere in che stato è il mobile giornalismo. Secondo te come sta? Secondo me sta bene ma non benissimo. Stiamo iniziando i corsi del Festival di Mojo Italia, questo è un corso su LumaFusion, ritrovo vecchi amici e provo a scoprire che cosa c'è di nuovo con il mobile giornalismo italiano. Diciamo che sta molto bene, c'è molto interesse, certo ho l'impressione che però dobbiamo lavorare molto sulla formazione. Mi resta un'impressione da questa giornata, l'impressione un po' bifronte, che per i colleghi il mobile giornalismo sia ancora una materia da scoprire e sia relegata al ruolo di soluzione B quando non si riesce a fare le cose nei modi in cui si è sempre fatto. Dall'altra parte però il mobile giornalismo è cresciuto ed è diventato uno strumento che si è quasi confuso con la produzione giornalistica multimediale dei grandi gruppi, lo abbiamo visto in tantissime occasioni. Per cui, come dire, forse in Italia il mobile giornalismo non sta benissimo perché ancora non è uscito da questo equivoco dell'essere una soluzione B, una soluzione di ripiego per chi non riesce a fare le cose come le ha sempre fatte. Secondo me intanto una cosa importante è testare, provare sempre e stare sempre sul pezzo, il giornalismo oggi cambia velocemente perché gli strumenti cambiano velocemente, quindi dobbiamo testare, dobbiamo provare, dobbiamo sapere utilizzare gli strumenti e dobbiamo sapere stare al passo ogni tempo, è una cosa che è giusta e valida oggi, probabilmente domani, dopo domani non lo so, Raffaele. Il giornalismo oggi riesce ad avere tantissimi nuovi giovani, anche attraverso i social, forse non per forza con il tesserino, ma che riescono a raccontare tantissimo e riescono anche a dirci a noi, che magari, io ho 30 anni, a dirci guarda stiamo cambiando, vogliamo avere queste informazioni. Come sta il mobile giornalismo in Italia? Ma è una domanda a cui rispondere è difficile perché se guardiamo alle nostre spalle c'è una fila di persone che cercano di entrare al Mojo Festival quindi verrebbe da dire bene perché c'è tanto interesse, in realtà io credo che soffra un po' nella misura in cui l'editoria italiana non ha colto in pieno questa occasione e è rimasta un po' impantanata nel passaggio da analogico a digitale. Il mobile giornalismo quindi non sta benissimo, ma ad algoritmo umano lavoriamo per migliorare la situazione.